Fidelis Sandria Bitonto, un'ora e mezza per emettere un verdetto amaro che non deve cassare l'impresa luminosa, i play-off artigliati appunto, compiuta quest'anno in una stagione costellata di infortuni e mestizi. E infatti, anche nel giorno del destino, squadra menomata da improvvisi e imprevedibili acciacche di Piarulli e Montinaro prima e di Turubiason dopo appena 17 minuti di sfida. Nonostante tutto, mister Valeriano Loseto si cautela dietro con Petta, Milani e Danilo Colella. Nel mezzo il gladiatorino Mariani col fantasista in miniatura Taurino fra le linee, a suggerire per Lattanzio, Triarico e Palazzo. Gigi Panarelli si gioca tutto con Manzo a menare le danze a centrocampo, la saggezza di Venturini in difesa e Cerone, Figlioli e Scaringella ad aggredirla difesa altrui. Minuto 11, punizione dai 20 metri, di Cerone, sporcata dalla barriera. Dieci primi dopo, Mancino di Palazzo blocca il portiere avversario. Al ventitresimo, uscita spericolata di piede di Anatrella. Poco prima della mezza, Cerone duetta con Scaringella e calcia di poco sopra la traversa. A dieci dall'intervallo, piazzato di Benvenga a giro, i pugni di De Lucia sventano. Contropiede vertiginoso al trentaseiesimo di Neroverdi e l'estremo di casa in uscita planata anticipa Lattanzio. Due minuti e sinistro in curva del trequartista Biancazzurro. A quattro dal riposo, assist calido di Taurino per Palazzo. Stoico, Anatrella, ribatte energico. A rientro dagli sfogliatoi, Bitontini un po' meno guardinghi, federiciani più fiduciosi. Appena cinque minuti e vantaggio Fidelis, destro fulminante di Benvenga da lontanissimo, reso letale da un tocco involontario di Mariani. A nono ci prova Lattanzio, debolmente. Al sedicesimo, su corner da sinistra, zampata illusoria di Venturini che sfiora la rete esterna e nulla più. Sessanta secondi e rinvio suicida De Leoncelli. Cerone sdrucciola sulla sfera e tira sbilenco. È lo stesso numero dieci, però, al ventiquattresimo, a dipingere il raddoppio su punizione, con una parabola fatata. Alla mezz'ora lancio arguto di Taurino per Tedesco, che viene vendemmiato in area da Venturini. Dal dischetto griffa il gol numero 19, Capitan Ricchi. Al terzo di recupero, la cortese mail da sinistra di Colella per Anatrella è il segno della resa dei Neroverdi. Infine, la chiude Prinari al quarto di recupero, si intrufola in area con tenacia, resiste alle sportellate di Milani, si fa beffe di De Lucia e deposita il cuoio nel sacco. Giù il sipario, quindi, ad una stagione maledetta che pure ha avuto momenti esaltanti e per la quale ci sarebbe solo da esprimere profonda gratitudine al presidente Rossiello, allo staff tecnico tutto e ai ragazzi, per le emozioni impagabili che ci hanno donato.